Per questa edizione siamo presenti come associazione regionale pugliese tecnici e ricercatori a svolgere una serie di conferenze... Per questa edizione di AgriLevante siamo presenti come associazione regionale di pugliese di tecnici e ricercatori. Stiamo organizzando una serie di conferenze su tematiche molto importanti. Più che conferenze sono tematiche interattive, con un host, sull'euro, l'ambiente, l'ambiente e l'agricoltura. Mi piace questo tipo di evento, questa fiera, perché in additione a essere un'opportunità di entrare. Inoltre abbiamo avuto tre conferenze molto buoni, una sulla Xylella. La ricerca è molto avanzata, specialmente per la Xylella. Il problema non è la ricerca, ma il problema è rappresentato dalla fake news. Ora, facendo l'example della Xylella, la fake news ha scelto tutte le operazioni per la eradicazione della disabilità. Quindi, da essere in Lecce, è ora in grado, in grado di tecnici che sono l'identità di Puglia. Le sculture, che sono a rischio, e la ricerca, con non tantissimi fondamentali, sono avanti. In particolare, per questa disabilità di Xylella, sono grandi cose che hanno fatto, ma non sono ancora percepiti dalla opinione pubblica o dai politici. che preferano ascoltare cantanti e attori. Parliamo di queste cose che hanno nulla a fare. Parliamo di Xylella, parliamo soprattutto di quelle che sono le prospettive per la gestione e il controllo di questa terribile fitopatia. Parliamo di Xylella. Parliamo di Xylella e delle risposte per la gestione e la controlla di questa terribile fitopatia. E quindi, anche se è l'attività di colpino di questa terribile, che non fossero lato a desto, la ricerca che non sono sempre lato. Abbiamo un problema di creazione di anche inizia a una misciclazione con la ricerca di blog, abbiamo sviluppato da un'ambito di soluzione ad lato di alcune delle ricche. E lecce, la Bacchina e la Bacchina e la FF17, la Bacchina. La Bacchina delle ricche, il suono di agliostra lato, ma i tempi risultati non sono compatibili con i tempi di progressione dell'epidemia. Quindi la eradicazione delle planche infectate e questo tipo di interventi sono ancora un sistema molto importante per durare la progressione dell'epidemia. C'è ancora una grande proporzione di operatori di questo settore che considerano la xylella un problema e non l'epoca della planta. Quindi dobbiamo informare gli operatori, perché c'è ancora confusione tra i carriere e i bacteri, e questo significa che le parti informazioni non sono stati conveguiti ai reali operatori di questo settore. che la informazione è stata misleadita e i risultati sono giocati solo due opzioni, per fare risultati o informazioni. Quindi magari abbiamo scelto un'intermediata per permettere di migliorare la comunicazione dell'epidemia. In questo evento abbiamo parlato della meccanizzazione delle filiere sulle isole minori, in particolar modo noi del CNR ci siamo... Durante questo evento abbiamo parlato della meccanizzazione delle canali di produzione sulle isole minori, e nel Consiglio di riservi di riservi del Nr. Abbiamo parlato di riservi con i progetti Smart Island per i benefici di ambientale ambientale, sulle isole minori che non sono collegi alla grida nazionale. Abbiamo ora dei progetti sulle isole di Ilicudio, Alicudi, Vulcani, Lippari, Fabigliani e Ustika. Questi progetti erano il risultato di una chiamata del Ministro dell'Environmento con molti obiettivi, incluendo la cambiamento climatico e la sostenibilità. Nell'isla di Ustica e Favignana, noi stiamo concentrati su tutti questi elementi e siamo l'unica agente di referenza in termini di un accordo del Secretario per la clean energia sulle islands europee. Abbiamo iniziato un observatorio sulle islands minori per aumentare l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile sulle 20 minori che non sono collegati con la grida nazionale. Abbiamo prodotto macchine farmi e sono felice di avere Benedetta Parodi qui e anche una rappresentante dell'Unione europea per parlare su alimenti. La cultura gastronomica è proprio una cultura che fonda le sue radici nella storia del nostro paese. La cultura gastronomica è una cultura reale con la storia della storia del nostro paese. La origine di controllo, il PDO, il PGI. Questo permette ai nostri prodotti di viaggiare a tutti i costi del mondo. Quindi abbiamo molto orgoglioso per il nostro paese. Non solo il lavoro di arte, anche il burrato, il pane d'altalmura. Ci sono arti. Come sono una persona che racconta le ricette, e la mia responsabilità è quella di aiutare le persone, per esempio, a mangiare più frutti e vegetali, e a mangiare meno carne, che è uno dei problemi più importanti del nostro paese. non solo le ricette alternativi, ma anche i diversi stili di vita, una responsabilità, ma anche un'onore, che mi prendo con molti delitto. e oggi la frutta tropicale è un'opportunità, la coltivazione di frutta tropicale è un'opportunità. Well, today, le frutti tropicale account for a very important opportunity. The cropping of these tropical fruits in Sicilia and the rest of Southern Italy have become so important. While mango, Japanese meddlers, avvocados, they have by now become part of the landscape of the Sicilian farming and also Southern Italian farming. I put the emphasis on Sicily because Sicily is the most important region from a climate point of view. We have already some crops there. We have now important results and productions. Also in terms of quality, in terms of experts as well. I'm speaking about mango. Mango is the most competitive variety compared to what comes from the rest of the world. We have a mango that is harvested at a physiological ripening state. So these are crops that have a good productivity, that have a good market, but they have to be adapted to the climate. So if I speak about Sicily, while the Turanian coast is the most appropriate environment, I can put an avocado 600 meters above sea level. So a mistake that is very often made is buying these crops and plants without knowing their physiology. So crops die out. So there is a problem with training, with information. We are trying to do this through scientific dissemination. We want farmers to understand that these plants need a special care to be correctly managed, also from a technical point of view. Today is the closing day of the sixth edition of Agri Levante. We have a track record in this edition for number of exhibitors over 340 with 20 new companies as exhibitors, 60 square meters or 600,000 square feet has sold surface and a new pavilion for the livestock with over 500 animals. We have also specialized pavilion this year for the gardening. As number of visitors, we have increased more than 10%, so it is much more than what we expected. And this addiction is a very good addiction because it is not only addiction for the southern part of Italy or the Puglia region, but mainly for the Mediterranean. So we have a lot of, also foreign delegation, over 150 delegates for over 40 countries, different countries. We are very happy about that and we hope that the 21 edition will be also much better.